Milioni di lavoratori in piazza in tutta Europa contro l'austerità, la disoccupazione e la precarietà crescente. Eurostrike, la manifestazione indetta dalle confederazioni europee dei sindacati. Tutto bloccato in Spagna, dove ci sono stati una sessantina di arresti. Stato di agitazione anche in Portogallo e Grecia. Più modeste le iniziative in Francia e il Belgio. Anche l'Italia è scesa in piazza a guidare la protesta, sono stati gli studenti e gli insegnanti in lotta, come recita un comunicato, contro l'ascelerata politica scolastica Monti Profumo e il massacro sociale. Circa 80 le città italiane coinvolte e non sono mancati disagi e momenti di tensione fra polizie e manifestanti. Scontri a Padova, Brescia e Torino, dove un agente di polizia è stato percosso con una mazza da baseball. Le situazioni più complicate a Roma e Milano. Nel capoluogo Lombardo, momenti di maggior tensione si sono registrati in corso magenta, nei pressi degli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo. Alcuni giovani si sono staccati dal corteo principale, tentando per due volte di sfondare il cordone predisposto dalle forze dell'ordine. A Roma, una vera e propria mattinata di guerriglia urbana. Sul lungo Tevere, completamente bloccato dal traffico, la polizia ha fatto uso di lacrimogeni e blindati per rispingere gli studenti. Si contano molti contusi e feriti. Questo è il bilancio della mobilitazione studentesca, la prima dall'inizio dell'anno scolastico.